Un'ulteriore novità per quest'anno per Shoei è il nuovo dispositivo di sicurezza VFXWR che sostituisce in gamma il ben onorato VFXW dopo sei anni di servizio. È una calotta completamente nuova che mantiene sempre delle caratteristiche distintive della serie VFX come la sua forma molto frastagliata. Calotta naturalmente è sempre realizzata con le nostre fibre composite realizzate in quattro misure di calotta per le sette taglie disponibili. È disponibile in 13 colorazioni grafiche, in tre colorazioni monocolore. Tra le caratteristiche principali una reazione migliorata è il nuovo sistema di assorbimento dell'impatto e dell'energia rotazionale con un brevetto Shoei che si chiama MEDS. È un sistema che permette alla calotta di assorbire l'energia rotazionale a seguito di un impatto e quindi scaricando l'energia sul collo del pilota. Naturalmente è sempre un prodotto per l'uso racing professionistico off-road quindi indossabile con qualsiasi mascherina Google e disponibile nei concessionari di Shoei da marzo 2018.